Penny Coombs, Nicholas Buckland, entrambi i 24 anni, come avete visto allenati da Evgeny Platov con Philip Askew, che firma anche le coreografie con Zanna Palagina. E le musiche sono quelle di Michael Jackson e del Circo del Sole, le Cirque du Soleil. Remember the time, Smooth Criminal, You Are Not Alone, Billie Jean, and Megamix. Watch. . . . . . . . . Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Wow Wow Grazie a tutti 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 Guardiamoli Guardiamoli Peccato che non ci ha fatto vedere l'ingresso di questo sollevamento che era molto particolare Guardate questo passaggio Entrambi si muovono bene anche il ragazzo che di solito sono sempre molto bravi No no molto bravo Si si entrambi Guardate anche questi cambi velocissimi Difficili La Toff La Toff L'avrei voluto vedere lui Avrei voluto vedere lui su questa musica meravigliosa Comunque sta trasmettendo anche sui pupilli la carica che lui sapeva trasmettere Certo Certo E il ritmo Grande ritmo E poi l'innovazione anche perché loro lui con Pasha sempre osavano 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 E ancora ha portato questi suoi allievi a dosare E ad ottenere un ottimo risultato Bravi bravi Penny Coombs e Nicolas Buckland Noi siamo sempre per chi lavora meglio Grandissimi Ora vediamo un po' 48.07 per gli elementi tecnici 48.86 93